Per esempio Genova era uno dei principali e lì nacquero anche delle canzoni. Delle canzoni di emigrazione, molto forti, molto sentite, perché dove c'era un porto da lì si partiva. E per testimoniare i sentimenti di un emigrante genovese, la presenza di Gino Paoli. Con un grande maestro, Danilo Rea. Gino, voi siete molto attaccati alla vostra terra, eh? Sì, ci torniamo sempre. Il genovese di solito parte da Genova, per mare, con la fantasia, col treno, con la nave, con qualsiasi cosa. Parte perché Genova è una città che comprime molto, è difficile come città. Parte perché non ha grandi possibilità a Genova. Parte però torna sempre. Sempre, deve tornare per ritornare alle radici. Non so, comunque a Genova si torna. Si torna per vivere ancora un po', si torna per morire a Genova. Ma guarda, io voglio raccontarvi un episodio che mi è capitato personalmente. Ero in America, e a Brodo, dove c'è un'edicola dove si vendono i giornali italiani. E io sono andato lì, appunto, a comprare i giornali. E mi ha dato il giornale un signore che aveva una ottantina d'anni. Mi ha riconosciuto, ha detto, ah, lei è italiano, benvenuto, eccetera. E dice, io sa, sono arrivato qui che avevo dieci anni, come il bambino di prima che cantava Mamma mia, dammi centolini. Dieci anni, qui ho una bella famiglia, ho avuto fortuna. Dice, adesso smetto di lavorare e torno a Recco, nella sua città. Gli ho detto, senta, ma lei a Recco ha parenti? No, nessuno, sono partito, ce l'ho dieci anni, non c'ho più nessuno. Ma qualche amico con cui passare? No, 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 ma allora perché torno a Recco? Per morire, per posare le mie ossa. E questa canzone, questa canzone, ma sai che penso? Che dice, a posa e osse, do a me ma dunà. A madunà sarebbe la nonna. La nonna, quindi questo qui viaggia, poi ritorna, ma sai che penso, di chi è questa canzone? Di Mario Cappello, primi novecento, primi novecento ho scritto questa, ne ho scritte tre o quattro. Questa ormai è diventata la canzone di Genova, praticamente. La canzone di Gerovese? Sì, bene. Danilo Rea, Gino Paoli. Ora è partito senza una palanca, sei a trent'anni, un po' c'è anche un decino. Ora è lato per mettere in una banca, per poi se l'ingiurdo lo torna insomma. E passi a palassina, al giardinetto, un rampicante con la cantina, un vino. Avrà andato a cagliare, hai sul letto, vedrai che nasce nassa, e hai mattinao, ma ufficio. Figgio che ti dice, ma non che pensa, asena, a cos'è ti che vuoi tornare. Ma, ma sai che penso, allora mi vedo male, vedo i miei monti e a ciascata non si è. Rivedo righe e messa a stranze o pe, vedo la lanterna a cava e l'asio o ma. Rivedo a sei a zina e l'umina, rivedo a fuggere e sento franze o ma. E allora mi penso ancora di ritornare, apposta io se dorme a maduna. E allora passi un tempo, forse troppo, fuggio che dice, siamo bene, un tanto da papà, pensiamo dopo, un viaggio, ma, la vita non conviene. Oh no, oh no, me sento ancora in gamba, sono stanco, non posso proprio tu, sono stufo di sentire, senor, caramba. Io oggi ritorniamo in un quince, tu te nasciù, tu parla spagnolo, mi soffio a giusennese, e non che mollo. Ma, ma sai che penso, allora mi vedo male, vedo i miei monti e a ciascata non si è. Rivedo i miei monti e a ciascata non si è. Rivedo a fuggere e sento franze o ma. E allora mi penso ancora di ritornare, apposta io se dorme a maduna. E senza tante cose io le partio. 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 Grazie.